Buonasera e bentornati a Pesaro, un'impresa in comune, l'approfondimento dedicato al faccia a faccia tra la CNA e i candidati a sindaco della città di Pesaro. Dopo il confronto con Francesca Frenquellucci dei 5 Stelle e Nicola Baiocchi del centro-destra, torneremo a parlare di imprese di sviluppo del territorio e di economia con l'attuale sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Buonasera e bentornato nei nostri studi. Buonasera a tutti. Do il benvenuto anche a Moreno Bordoni, segretario della CNA della provincia di Pesaro Urbino. Buonasera anche a lei. Buonasera. Ricci, sono ormai passati 5 anni dalla sua nomina a sindaco. Alle elezioni del 26 maggio lei tornerà a riproporsi, a ricandidarsi per il suo secondo mandato. La luce delle cose fatte e di quelle ancora da fare, come si immagina la Pesaro del futuro? Intanto ci candidiamo per accelerare perché non vogliamo accontentarci delle tante cose fatte in questi 5 anni, che sono state tante anche di supporto allo sviluppo locale perché abbiamo cercato di ristrutturare l'economia della città, facendo crescere maggiormente i servizi e il turismo, rendendo la città più conosciuta e più attrattiva. E al tempo stesso abbiamo messo in campo un piano di investimenti storico per la città, perché abbiamo decuplicato, moltiplicato per 10 gli investimenti che in genere venivano fatti. Molti di questi cantieri sono in corso e devono partire, quindi dobbiamo innanzitutto accelerare in questa direzione. Anche perché grazie anche al lavoro della CNA è stato modificato il codice degli appalti, abbiamo la possibilità di fare affidamenti fino ai 150 mila euro e quindi questo è sicuramente un aiuto molto forte alle imprese locali e gli investimenti sono sicuramente uno degli assi principali sui quali un comune può aiutare la ripresa e lo sviluppo del nostro territorio. Tanti gli argomenti che affronteremo durante questo approfondimento. Bordoni, entriamo un po' più nel dettaglio. Buonasera Sindaco, iniziamo subito con una domanda, è un tema molto caro alle imprese, la tassazione locale. Tanto si è già fatto nel suo primo mandato, tanto altro c'è ancora da fare, anche alla luce dei dati forniti dall'Osservatorio Nazionale CNA. Quali sono le iniziative che vuole intraprendere a riguardo per rendere la vita degli imprenditori più agevole e la tassazione finalmente un po' più equa anche a livello locale? Intanto vogliamo confermare e rilanciare questa azione che abbiamo fatto di detassazione per chi apre un'impresa. Chi apre un'impresa a Pesaro per tre anni non paga le tasse comunali, non paga l'Imu, non paga la Tasi, non paga la Tari, la tassa simondizia, non paga il suolo pubblico e non paga la tassa pubblicitaria. Questo è un bel aiuto a chi deve partire, alle start-up. Purtroppo in questi anni tanti non hanno fatto domanda perché probabilmente la comunicazione non è arrivata come doveva arrivare. Però è un'azione che vogliamo assolutamente confermare, così come quella di provare gradualmente ad abbassare anche a qualche aliquota. Anche se ci tengo a sottolineare un aspetto. Da quest'anno la legge di bilancio consente ai comuni di modificare, di poter cambiare e aumentare le tasse locali. Noi siamo tra i pochissimi comuni non solo che hanno approvato il bilancio a dicembre, ma che non hanno aumentato le tasse locali. Quindi di certo noi non abbiamo utilizzato questa leva e faremo di tutto nei prossimi anni affinché anche la tassazione locale possa essere gradualmente diminuita sapendo che con la tassazione locale noi teniamo in piedi il welfare, teniamo in piedi il sociale, teniamo in piedi i servizi educativi, la cultura e quindi non si possono fare promesse da marinaio perché poi non sono realizzabili e così si prende solo in giro i cittadini. Dalle tasse locali passiamo alla burocrazia. Altra spina nel fianco per le imprese è la burocrazia. Il carico di addempimenti burocratici è un fardello troppo pesante per le nostre aziende, spesso complicato anche dalle amministrazioni locali. Penso che sia necessario snellire un po' la macchina burocratica e come pensa di intervenire per questa materia? Ma su questo come hai appena detto gran parte dei problemi sono normativi, poi è chiaro che io e il mio ufficio ho detto tutto ciò che possiamo fare per riorganizzare gli uffici e snellire quello che c'è da snellire lo dobbiamo fare perché anche un giorno in meno di fila o meno in giorno per una pratica vale oro ed è quello che dobbiamo assolutamente fare. Sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti in questi anni rispetto alla digitalizzazione, al comune digitale, ora è un comune aperto H24 perché le nuove forme tecnologiche ci consentono di farlo e al tempo stesso stiamo provando a omogenizzare le pratiche perché in particolar modo con il comune di Fano abbiamo avviato un lavoro per provare a semplificare e a rendere le pratiche omogenee perché magari un artigiano ha una procedura su Pesero, una procedura su Fano, un geometra ha la stessa problematica e quindi omogenizzare e utilizzare al meglio l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione per fare ulteriori passi avanti in termini di semplificazione sapendo che noi siamo i primi a volere normative più snelle e quindi questo è molto in mano al Parlamento nazionale e anche al Consiglio regionale. Come sempre abbiamo dei contributi esterni, ovvero delle domande che le rivolgono delle persone che lavorano proprio nel settore del commercio. Ascoltiamo la prima. C'è una forte crisi nel commercio e molti negozi stanno chiudendo. Cosa pensate di fare? Ecco Sindaco, che cosa ha in programma? Intanto abbiamo cercato in questi anni di rendere il centro storico molto più attrattivo. Abbiamo messo in campo tantissime iniziative, quella più eclatante è quella del Natale ma anche in questi mesi le lanterne di Alghero, le lanterne artistiche che rendono il centro ancora più magico. La stessa attrazione che abbiamo messo al mare, dalla torre panoramica, i tanti eventi che si sono moltiplicati nel centro hanno portato tanta più gente e c'è proprio di qualche settimana fa un'indagine dalla ConfCommercio che nei nostri confronti non è mai stata neanche così tenera che dice appunto che il centro di peso l'ha retto rispetto ad altri centri di città italiane anche se la crisi del commercio ovviamente è una crisi sotto gli occhi di tutti. Di certo noi non andremo a fare nuovi centri commerciali, di certo non andremo a cambiare ulteriormente l'assetto commerciale della città, le aree commerciali principali rimane quella vicino al Vitrifico Arena quella vicino al Palasport e non abbiamo in previsione di fare grandi strutture ma abbiamo in previsione di spingere sempre più le attività commerciali del centro storico. Ma non solo il centro perché se prendiamo Baia Flaminia ad esempio a Baia Flaminia in questi anni si è creato il polo del food e tanti ristoranti hanno rimesso in moto un'area come quella penso a Via Cavour, penso a tante zone che possono in qualche modo reggere e riqualificarsi. Una di queste è l'asse di Via Giolitti, Via Giolitti-Via Fratti dove ci sono tanti commercianti che hanno retto nonostante la crisi ed è anche per questo che abbiamo lanciato il progetto di trasformare la vecchia circonvalazione in un viale, Viale Fratti e Giolitti proprio anche per dare forza ai tanti commercianti che hanno resistito e stanno continuando di investire. Grazie Sindaco, do il benvenuto ad Alberto Barilari, Presidente Provinciale della CNA. Buonasera. Buonasera a lei, la prossima domanda prego. Sì, innanzitutto buonasera Sindaco, ben trovato. Noi come CNA riconosciamo il valore fatto, il lavoro fatto in questa legislatura, è visibile, opere pubbliche, lavori sul turismo, sulla cultura, una grande attività in questo senso è stata fatta, ma Pesaro purtroppo a livello imprenditoriale non è più la Pesaro di un tempo. insomma, purtroppo tante aziende hanno chiuso, specialmente le nostre aziende, quelle che rappresentiamo noi, le piccole attività artigianali, del commercio. Pensiamo che sarebbe ora di ricominciare a puntare un po' sull'impresa e darle slancio, insomma, qual è il suo punto di vista da quello che poi può fare un'amministrazione comunale naturalmente? Sì, il tema è di quali leve il comune ha, perché abbiamo parlato fino ad oggi fino a questo momento di detassazione, ma noi siamo in Italia, siamo in Europa e ovviamente se le esportazioni frenano il comune di Pesaro ci può fare poco. Però è evidente che dobbiamo dare una mano, io credo innanzitutto dal punto di vista dell'innovazione dei fondi europei, perché abbiamo questa grande sfida dell'industria 4.0, io credo che abbiamo la possibilità anche per creare una piattaforma tecnologica a sostegno dell'impresa nel nostro territorio e vedo come zona principale è la zona di Giafermo, così come noi dobbiamo in qualche modo rivedere le previsioni urbanistiche del nostro territorio, facendo una variante generale al piano regolatore che sia tutta semplificazione e flessibilizzazione. Noi abbiamo tanto costruito da trasformare, pensiamo ai capannoni vuoti, ma abbiamo delle impostazioni, delle previsioni urbanistiche troppo rigide e quindi spesso e volentieri arrivano delle persone che vogliono fare investimento e quando vogliono fare quell'investimento il mercato è già cambiato e quella destinazione urbanistica non serve più. Quindi abbiamo bisogno di flessibilizzare molto il costruito e questa è sicuramente una mano che possiamo dare molto forte alle nostre imprese. È evidente che noi in questi anni abbiamo cercato di far crescere il turismo e i servizi, ma non per stravolgere l'economia locale, per equilibrarla, proprio per andare incontro a quello che diceva lei. Noi ci siamo impoveriti, abbiamo perso molti posti di lavoro durante la crisi, la nostra economia principale rimane nella manifattura, senza manifattura ovviamente saremmo morti, ma vogliamo riequilibrare un po' i valori in campo e quindi diciamo recuperare anche quei punti di PIL, quei posti di lavoro che nella manifattura oggettivamente non torneranno. Poi c'è tutto il tema dell'internazionalizzazione, che però non è una competenza del Comune, sulla quale è sempre più importante che la Regione e la Camera di Commercio Unica Regionale, alla quale avete contribuito anche voi, possa dare una mano alle imprese del territorio, perché ognuno deve avere le sue competenze e non possiamo pensare che il Comune possa occuparci di internazionalizzazione. Noi possiamo favorire attraverso la cultura degli accordi con territori a noi vicini, l'abbiamo fatto con tante parti del mondo attraverso Rossini, ma poi la capacità di mettere in campo progetti di internazionalizzazione sta in capo alla Regione o alla Camera di Commercio Unica. Passiamo alla prossima domanda esterna. Sul tema delle infrastrutture pubbliche, cosa intendete fare? E sul porto in particolare? Intanto sul porto in questi anni sono stati fatti grandi passi avanti, è un po' rinato il porto di Pesaro, abbiamo avuto davvero il timore di un declino irrecuperabile dopo la chiusura del cantiere. Invece si è abbinata una stagione di investimenti pubblici importanti, dragaggi, sistemazione delle banchine, illuminazione, videosorveglianza, asfaltature e al tempo stesso è ripartito il cantiere navale attraverso il cantiere Rossini. Fra l'altro con un'attività molto compatibile con la nostra città, perché la ristrutturazione degli yacht non solo produce lavoro, ma produce anche un indotto positivo di bellezza, chiamiamolo così, utile a quest'idea del porto bello, che è appunto l'idea di un porto che rimane commerciale, ma che al tempo stesso può sviluppare ulteriormente delle attività di altro tipo. Adesso il passo fondamentale è il piano regolatore del porto, che deve fare l'autorità di sistema, l'abbiamo sollecitata proprio anche i giorni scorsi affinché vada avanti il prima possibile per favorire le attività del porto, come il signor Volpini che interveniva poco fa in collegamento, e al tempo stesso dobbiamo continuare con gli investimenti pubblici da portare. Abbiamo calcolato insieme all'autorità di sistema che serviranno almeno altri 10 milioni di investimenti pubblici dello Stato, per difendere la banchina nuova che è stata fatta, per ulteriori dragaggi, e questo ci servirà anche per sviluppare altre attività, anche diciamo di carattere turistico, perché già oggi la darsena commerciale ospita una cinquantina di imbarcazioni da di porto, potremo portarla a 140 imbarcazioni, e già oggi il porto di Pesaro ha ripreso un'attività turistica, perché dentro il porto di Pesaro arrivano, grazie alla Gorotour, arrivano mini crociere, crociere di qualità, americani, collegamenti verso la Croazia, quindi è un porto che gradualmente sta rinascendo, e dobbiamo assolutamente continuare in questa direzione. Sulle infrastrutture c'è tanto da fare, sicuramente sono partiti i lavori di società autostrade, che miglioreranno ulteriormente la viabilità, è in corso il lavoro degli interquartieri di Muraglia, per cui il cantiere è già iniziato, e avremo l'interquartieri che arriverà fino davanti all'ospedale di Muraglia, e poi partiranno subito dopo le altre opere, che sono il raddoppio degli interquartieri nel lato dove oggi due corsie, dove la mattina sostanzialmente si crea la fila per andare al lavoro, ci sarà la bretella di Santa Veneranda, ci sarà la bretella che dalla Montella Battese arriverà all'attuale casello, facendo diventare l'attuale casello sempre più il casello della Val del Foglia, dell'area industriale della Val del Foglia, e poi successivamente il nuovo casello di Santa Veneranda. Quindi 2019 interquartieri di Muraglia, 2020 le altre opere, 2021 casello. Questo è il cronoprogramma che ci siamo fatti con Società Autostrade, e insomma questo sicuramente in termini di strade darà una risposta molto forte alla viabilità cittadina e provinciale. Alberto, a lei. Sì, Sindaco, proviamo a fare un riassunto per sommi capi a favore delle nostre imprese, delle persone che ci seguono, puntando appunto al lavoro e allo sviluppo dell'occupazione. Questa sua amministrazione cosa potrebbe fare, cosa vorrebbe fare, in sommi capi per appunto per trasparenza. Ma investimenti, come ho detto, tanti investimenti, anche extracomunali. Il fatto, ad esempio, che siano passate molte strade provinciali all'Anas è molto importante. Penso alla Monterabattese, penso alla Fogliense, penso alla Flaminia. Ci dà fiato rispetto a strade di grande percorrenza, che erano a causa della crisi delle province diventate impercorribili, o comunque molto strade in grande difficoltà. Abbiamo bisogno di collegarci ancora meglio rispetto a Bologna. Io auguro grande futuro sia l'aeroporto di Falconare che l'aeroporto di Rimini, ma è evidente che Bologna per noi diventerà sempre più lab infrastrutturale della nostra città, della nostra provincia. Tra poche settimane apriranno la navetta tra la stazione di Bologna e l'aeroporto di Bologna e questo vuol dire che Bologna è la nostra porta verso il mondo. Pesaro-Bologna-Mondo. Anche per questo abbiamo rafforzato i rapporti, grazie anche qui alla cultura, con la città di Bologna. Bologna è il nodo dell'alta velocità. Arriverà il treno, da noi è in corso l'investimento per la media velocità, verrà portata la velocità a 200 km orari, ma è evidente che anche in treno per andare in qualsiasi parte d'Italia noi andremo verso Bologna. Avere chiari gli asset infrastrutturali è molto importante per le imprese, così come quando parliamo di merci è molto importante e il collegamento con Ancona, perché il porto d'Ancona è il nostro porto commerciale, vero? E quindi queste sono le grandi infrastrutture sulle quali dobbiamo muoverci. Sono invece ancora molto preoccupato rispetto al collegamento a Ovest, perché la Orte Falconara è una tratta, diciamo, che non è adeguata e anche dal punto di vista aviario questo blocco ulteriore della Fano Grosseto dopo le tante battaglie che abbiamo fatto mi preoccupa notevolmente. E mi preoccupa non per Pesaro e per Fano, mi preoccupa per le aree interne, perché Pesaro e Fano grazie all'autostrada probabilmente andranno verso Roma attraverso la quadrilatero. A me preoccupa il collegamento delle aree interne con la quadrilatero, perché noi rischiamo di svuotare completamente tutta l'area che oggi passava per il furlo e quindi di svuotare la competitività delle aree interne del nostro territorio. Quindi, diciamo, sono più fiducioso, sono fiducioso nel collegamento nord-sud, sono più fiducioso nel collegamento aereo e invece sono molto preoccupato per il collegamento a Ovest e soprattutto non tanto per Pesaro e Fano ma per le nostre aree interne. Poi dobbiamo continuare a far parlare di Pesaro. Qualcuno ha detto, ah ma sto sindaco è ambizioso, sempre in televisione. Io penso che una città che non comunica non esiste, è una città che non ha la capacità di accendere i riflettori su di sé, non fa bene all'economia, non fa bene all'impresa. Competiamo in un mondo globale, voi lo sapete bene, e quindi avere un territorio che accompagna l'impresa attraverso un'azione di marketing territoriale è fondamentale, non solo per il turismo ma complessivamente per la competitività di un territorio. La sicurezza è un altro tema sicuramente importante. Allora sentiamo la prossima domanda che ci arriva sempre dal mondo delle imprese. Sempre più furti nei negozi e nei laboratori. Cosa intende fare sul tema della sicurezza? Il sindaco non è uno sceriffo. La sicurezza è in capo in questo paese al Ministero degli Interni che coordina e dirige la polizia, i carabinieri e le forze dell'ordine. Lo dico perché in tanti fanno confusione e qualcuno ci fa anche un po' di speculazione politica intorno a questo tema. Però un comune può dare una mano alle forze dell'ordine e è quello che abbiamo fatto in questi anni e che continueremo a fare. Intanto illuminando meglio la città. Stiamo cambiando circa 13.000 punti luce su 16.000 7.200.000 di investimento mettendo le lampade a led e questo consente non solo di risparmiare più del 30% ma di avere una città meglio illuminata. Dall'altra abbiamo messo in campo un piano di 100 telecamere e 100 occhi sulla città una buona parte di questi in grado di leggere la targa delle macchine perché proprio la polizia ci ha detto che i furti negli appartamenti in particolar modo sono quasi sempre commessi da bande predatorie di passaggio che spesso e volentieri vengono dall'est Europa che nell'ultimo miglio si muovono con macchine rubate e quindi avere delle telecamere che leggono le targhe delle macchine consente non solo di aiutare le forze di polizia nella fase di ricerca dei colpevoli ma anche in termini preventivi perché già registrare in un territorio come la nostra una macchina rubata è in qualche modo un indizio di qualcosa che non va. È chiaro che i furti negli appartamenti sono una delle cose più sentite anche perché anche chi viene derubato di poche nulla subisce un trauma psicologico che si porta dietro per anni è un problema vero, forse il principale nel nostro territorio noi stiamo cercando di collaborare con le forze dell'ordine in questa maniera dall'altra stiamo cercando anche di rendere la città più vivace perché la nostra idea è che una città morta è una città più insicura non più sicura, mentre una città viva piena di gente dove la gente si diverte, esce, si aggrega, fa musica, fa festa, va a iniziativa è anche una città più sicura, più controllata è un'impostazione culturale che abbiamo dato dall'inizio alla quale crediamo molto e vogliamo continuare assolutamente in questa direzione. Moreno. Quindi sindaco anche cultura e turismo, nuove asset dell'economia del pesarese pur rimanendo nel nostro territorio un territorio ad alta vocazione manifatturiera. Sì, noi abbiamo bisogno di più alberghi e di migliore qualità anche per questo a proposito di incentivi Pesaro credo che sia uno dei comuni in Italia dove convenga di più fare alberghi perché oltre alla tassazione comunale che dicevo prima di tre anni per le tasse comunali a Pesaro non si pagano neanche gli ordini di urbanizzazione se uno riqualifica un albergo. Abbiamo creato questi incentivi perché oggi spesso e volentieri è più la gente che viene a Pesaro dei posti letti che abbiamo e quando organizziamo grandi manifestazioni dobbiamo mandare la gente a dormire da Rimini a Senigallia che va bene uguale però di certo non ci consente di tenere qua la ricchezza che vorremmo. E poi dobbiamo lavorare tutto l'anno di turismo per questo noi abbiamo tra i vari asset abbiamo puntato fortemente sul tema della cultura e della musica perché il riconoscimento dell'UNESCO è già un riconoscimento internazionale che ci dà tanto. Il centocinquantesimo di Rusini è stato non solo un successo ma una promozione mondiale storica, unica per la nostra città e stiamo legando molto con altre città della cultura come noi perché nei prossimi anni tutti gli osservatori turistici dicono che arriveranno milioni di turisti nuovi in particolar modo dalla Cina e dall'est del pianeta. I turisti che vengono non vengono per il mare perché come sa non si vogliono abbronzare ma invece sono molto attratti dalla cultura e noi abbiamo un asset Roma, Firenze e Venezia che è quello principale dove questi turisti vanno che invece ha un problema opposto di overbooking e quindi noi stiamo costruendo una rete nazionale con altre città della cultura Parma, Matera, Alghero piuttosto che Mantova proprio perché vogliamo offrire a questi nuovi turisti nei prossimi anni un'offerta che va dal di là di Roma, Firenze e Venezia per questo ci puntiamo molto ovviamente Pesaro non è solo musica ma la musica e Rossini sono sicuramente la nostra punta di diamante per offrire un contesto culturale più ampio ed è anche per questo che abbiamo deciso di candidare Pesaro e io mi auguro Ancurbino come capitale europea della cultura 2033 perché sappiamo che il 2033 è lontano ma dà in qualche modo l'idea della direzione di marcia cioè di una città, di un territorio che vogliono costruire sempre più su questo scenario per fare un pezzo di economia e abbiamo secondo me grandi possibilità perché Pesaro è città dell'UNESCO per la musica Urbino è patrimonio dell'UNESCO per il patrimonio artistico noi abbiamo celebrato Rossini Urbino celebrerà il prossimo anno Raffaello abbiamo una forza unica siamo l'unica realtà con il co-capoluogo di provincia e quindi abbiamo una forza unica dobbiamo essere molto ambiziosi e avere questo slancio anche attraverso queste candidature ci dà l'idea che quello è il futuro che vogliamo costruire continuerete a stringere questi rapporti queste collaborazioni con le altre amministrazioni comunali anche per intercettare risorse comunitarie insomma progetti condivisi con altri comuni di espressione politica diversa sì assolutamente questo è molto importante abbiamo costruito in questi anni un ufficio per le politiche comunitarie comune con quasi tutti i comuni della provincia continuiamo in questa direzione e abbiamo portato a casa dei bellissimi risultati penso a Liti che abbiamo costruito col comune di Fano il comune di Gabizia e di Gradar sono milioni di euro che vedranno realizzazione proprio nei prossimi anni quindi continuerà anche in tal senso assolutamente anche in questo caso dobbiamo accelerare il termine accelerare è uno dei verbi che userò di più in queste settimane perché giustamente siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto poi quando si fa alcune cose vengono meglio alcune cose vengono peggio ma sbaglia sicuramente chi fa e non di certo chi sta lì ad aspettare solo l'errore altrui però è anche vero che anche se siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto non ci accontentiamo vogliamo assolutamente accelerare perché questo territorio viva ancora una situazione socio-economica molto molto difficile e dobbiamo assolutamente essere ancora determinati in questa direzione e questo era l'ultimo approfondimento dedicato a Pesaro un'impresa in comune grazie a tutti coloro che ci hanno creduto sì grazie a Crai Gruppo Erossole che ci permette di mettere in campo queste iniziative molto interessanti perché noi rimaniamo convinti come associazione che non esista un amministratore a qualsiasi livello che possa definirsi illuminato se non mette al centro della propria agenda i problemi della micro, piccole e medie imprese che è l'ossatura vera e reale del nostro paese grazie alla CNA in questo caso a Moreno Bordoni segretario provinciale grazie anche al sindaco di Besoro Matteo Ricci grazie ancora anche ai nostri telespettatori per averci seguito buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV arrivederci grazie a tutti